Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un pesce stella! Svento! Dovazzac! Come! Molto! Coraggio, scopriamolo! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? W, whale!